Allora, Vayne top lane Non il massimo Leviamo magari, non lo so, a Queen, no? Guys, sarò onesto Già iniziamo a male con il messaggio Arriviamo al momento in questa partita Cosa ti invitano a prendere il ff di quittare Sentire il motivazione di coach Swap Ma la cosa con te e io è che non siamo quitteri Mi piace questa attitudine, King Ma Briska non ho banato? No, non Ginko Briska, che non è Vabbè andiamo a blitz I like this mood king now but super easy to camp I can flash E on them I like this mood, this velvet One discord boss I have no mic, ma come fai a non avere il microfono? But I could use my phone Ok, sei proprio disperato per non avere il microfono Giochiamo in exhaust Cioè contro... no no Lui giochiamo Dobbiamo uccidere al meglio il game YouTube, vediamo questo audio che ha messo Cricket o baseball? Cricket Ma il cricket come fa a pc esattamente? È proprio una merda Ma su disco con frago Sono su discord Ordo un... allora questi qua li ammazziamo? Sì Un bello grabino dovrebbero morire anche se abbiamo Jhin Belvederebbe amperare Vayne contro Riven Non pensi a un bel matchup? È vero? Cioè il primo errore di Vayne Vayne è sempre morta Noi abbiamo Silas contro loro Non è il massimo Ok Ordu Invadiamo? Possiamo invadere Sì Tutto motivational speech per Steph che è invasato Domanda Se io adesso Ok No 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 è stato io più buono salve salve eh prego lozzo non fa niente non mi metterò a piangere no no non fare così ma fra 20 minuti va bene uguale per me è un po' tardino Paolo perché poi è una certa devo staccare avrei poco tempo facciamo dai tanto rimandiamo uguale domani o vai va bene va bene ma non voglio non posso staccare tardi oggi e vabbè tutto a posto la solo Q come va procede ho tiltato come un drago come puoi intuire anch'io però allora domani è il nostro giorno sì sì l'ho detto ieri io questa volta però vabbè beh domani è il mio non me lo impedirai non perché poi se puoi aggregarti puoi eh ok ci provo allora ci aggiungiamo domani per le per le 4 magari facciamo ma ci aggiungiamo su whatsapp vabbè ci aggiungiamo su whatsapp sì sì vabbè se vuoi restare su discord nel tuo ti do il permesso se invece vuoi che io vada via vado via se ti distrago tranquillo va bene va bene facciamoci una partita in compagnia senza giocare insieme ma sei in draft yes ah ma mi sono dimenticato di sguappare madonna davvero no cioè non è così grave ho preso Gragas perché lo voleva un tizio cioè ha detto possiamo flexarlo e ho detto boh ok e ora quindi soggiorno Gragas ma in realtà non volevo giocare Gragas sarà più per lui che per me è solito il Gragas sì è solito il mio Gragas se nemmeno una botte di perro non ricordi felice il tuo Gragas hai dei ricordi felici o infelici? non li ricordo quelli felici è perché l'ho giocato molto poco erano momenti così gravi ma intenso vediamo sto Gragas anche io ho un blitzcrank in team puoi fare finta di essere lui se vuoi chi lavora per me c'è il bro che va a dare fatti 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 c'è un piccolo roaming midlane roma 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 flash mi flash in faccia alla di carry rancando 10 million e vinco nel trade non mi incapaccio ancora di questa roba il magic carry è la G non è la mica sì ho visto che stai giocando sarà più un pardo ma roba il tempo non c'è un po' Oh no, no però Oh merda Ho fatto una cosa bella Bravo Sono contro Zuchil Lo spacchi, lo spacchi Eh, l'ho appena spaccato Io ho predito la terza Q di Ione In mezzo a 42.000 sotto torre E' uscito pazzo Col Cannon, la mossa Pixel grab, perchè noi di cose piccole ce le intendiamo Eh si Ahia Ahia Non ne parliamo Ma Beh bene pure ma Fava comunque il portale di Mario Eeeh Io ho Bo E che abbiamo molto a fare Le collo, il giro per delle Puoi ricollare qui con l'armatura E' proprio imbarazzante Infatti ne manco C'ha i soldi, ovvero te Poi prendete 100 di armatura contro 2 AP in bot lane Penso i denunciabili Si lo è abbastanza Ma Stavo trovando Stavo trovando Sto giocando per il Drake Sto giocando bene 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 Io sono un po' Vabbè Partia appena iniziavo Non si fosse niente in realtà Top che inta Bot che even Potrei volare Attica Attica Tающiero Vabbè Per Addice Sel Vabbè Lamolin vado via e tra questa signora a sfuggire la wave vado via ganko mid comunque ganko sempre mid ma rendo spesso chiaramente in considerazione la possibilità di gankare la top lane la strisana viene questa volta è legale quello che fanno gli avversari che fanno gli avversari lo dico con umiltà fai bene quando ci vuole ci vuole sono matto ma lo potevi killare cioè non killare kickare benvenuto king mamma mia grazie grazie drago è gone ci deve forzare c'è tristana che invece di toccare ci vuole per far star play c'è tristana che invece di toccare ci vuole per star play non dov'è dov'è lo muovere non dov'è lo muovere non dov'è lo muovere inc non dov'è lo muovere Grazie a tutti. 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 Ero sicuro che sarebbe morto. Grazie a tutti. Abbiamo... Tilt. Ma... ma... Or maybe... Or maybe... Or... Or... Vediamo... Vediamo... Or... 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 Come direbbe il mio buon vecchio amico Valex, sarebbe infacca imperdibile. Ah sì, mi sembrerebbe. Deve esserlo solo scenario a questo. E andiamo tutti in mid lane, dai! Perchè? Vabbè. Volevo solo fare il free. ... ... ... Per amici dire dai Ma io sono E io le porto a casa Ma se me solo con blitz can cazzo Solo con blitz vinci? Sì E chi è questa bella stellina? La Toni Grazie per tre mesi king Combre si è un progetto Grazie Senti ma non avevamo messo Che adesso potevi raggiungere il rank set